100 milioni su 600 mila euro sull'adiutorio per girarli a chi? Alla SEPACOM. Cioè è come dire, io prendo il comune, lo pignoro e poi do i soldi al Marchetti per la sua azienda. Io prendo i soldi dei cittadini, li investo, li pignoro, per far sì che un privato faccia i suoi affari. Ma non sta né in cielo né in terra questa cosa qua. Ma che malagestio? Perché la giustizia in questo paese non funziona davvero. Altrimenti certa gente non doveva essere qua. Faceva i comizi da Milano. Non esiste gestire il denaro pubblico in questo modo. Non c'è verso. E sono 20 anni che i mozzatesi continuano a dargli fiducia per 15 giorni di balle che racconti in campagna elettorale. Basta, è ora di finirla. È ora di finirla.